Un bagno di folla per il patrono di Pozzallo, San Giovanni. L'incontro con la gente, l'attesa nelle vie, le preghiere, le emozioni dei pozzallesi nel giorno della sua festa. Un reportage che vi farà rivivere i momenti più significativi del 24 giugno. Lunedì 3 luglio ore 21 e in replica giovedì 6 luglio ore 21 su canale 74 naturalmente. In collaborazione con la comunità parrocchiale di San Giovanni, la concessionaria Peugeot e Citroen Giovanni Cappello e figli, Modica, Aragusa, giunta cucine ed elettrodomestici da incasso, Modica, la pescheria Blanco la Madonnina a Pozzallo, edilizia Mediterranea, Modica, trattoria Larco, Modica, lo studio dentistico del dottor Luciano Susino a Pozzallo dal 1989. Pregoe